Vi siate divertiti, io vorrei ringraziare il Don Giuseppe, se non sbaglio, che ci ha ospitati e tutti quelli che hanno organizzato anche la serata qui con noi e spero veramente che per la prossima commedia possiamo ritornare molto volentieri. Intanto vi ringrazio e vi presento gli attori. Cristina, Fionella Crespo, Dottoressa, Gianni Iberi, Mario Enzo Seda, Valentina, Serena Di Mauro, Angela Benza, Giulia Fantasia, Giovanna, Sandra Benza, Vasto, Silato, 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 Silato. Grazie in particolare alla nostra suora che ci è venuta a trovare ancora, non è più nella nostra parrocchia però è per noi sempre la nostra suora. Francesca, Anna Bernastone Gregorio, Ligocaccia e adesso per ultimo, per ultimo, mi dispiace ma è il mio, particolare, orgoglioso di esserlo, nostro, vostro amico Giuseppe Sapienza e non vi è registrato grazie ancora, alla prossima grazie